Mentre scatta il pugno duro del Comune con altri commissariamenti emerge qualche contenzioso perché dopo la designazione dei professionisti un tecnico chiede danni. In una delibera si legge che un tecnico agito in giudizio nei confronti del Comune per ottenere il pagamento delle somme richieste a titolo di compenso ma anche a titolo di risarcimento danni, quale conseguenza della revoca dell'incarico di progettista dei lavori di riparazione post-sisma di un aggregato. Per l'ente però l'incarico non venne conferito dal Comune ma dal commissario nominato dal Comune per sostituire gli organi del consorzio costituito dai proprietari dell'immobile, commissario che quindi non è organo del Comune ma del consorzio stesso. In attesa di dirimere questa faccenda gli ultimi commissariamenti sono 11. Per l'assessore alla ricostruzione privata Roberto Tinari questo darà una svolta alla ricostruzione ancora ferma. Gli aggregati commissariati si trovano Aragno, Camarda, Monticchio, San Gregorio, Colle di Sassa, Gensano, Rischia, Colle e Brincioni e All'Aquila. Con questi commissariamenti si arriva a 66. La commissione oltre ad esaminare le pratiche scegliere commissari deve anche monitorare il loro operato e lo stato di avanzamento nel tempo della pratica assegnata. Le modalità di scelta sono cambiate perché prima c'era un sorteggio, ora invece è la commissione che nomina i professionisti scegliendoli dall'albo. Il cambio di passo è stato necessario perché con la vecchia modalità molti rinunciavano o non avevano le competenze adatte a seguire le pratiche. In questa maniera il Comune spera di accelerare la ricostruzione di quei buchi neri della privata rimasti ancora al palo dopo 15 anni del terremoto.